Non lo accetto e il modello non sono io guardi, si citava prima Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, sette figli, Roberta Mezzola, Presidente del Parlamento Europeo, quattro figli, si può fare, si può fare. Allora qual è il messaggio che secondo me va dato? Il messaggio che secondo me va dato è non c'è bisogno di rinunciare a una cosa per un'altra, fai tutte le scelte libere della tua vita, quello che dobbiamo fare noi è costruire gli strumenti per favorirlo, particolarmente nel rapporto tra maternità e mercato del lavoro e non è un caso che io mi sia occupata e noi ci siamo occupati col governo prevalentemente delle madri lavoratrici, perché se lei guarda i provvedimenti che noi abbiamo portato avanti sono concentrati sulle madri lavoratrici e in generale sui genitori lavoratori, quindi il tema dell'estensione del congelato parentale per entrambi i genitori, il tema della decontribuzione per le mamme lavoratrici che hanno più di due figli, il tema dell'asilo per il secondo figlio, diciamo così, gratis, eccetera, sono il fringe benefit che aumenta se sei un dipendente con figli, cioè io voglio smontare il racconto che se tu metti al mondo un bambino ti precludi altre possibilità, che in parte è un racconto, in parte no, perché è vero che ci sono le donne sono ancora troppo discriminate, soprattutto per il fatto di essere potenziali madri o madri, e quindi io voglio lavorare su questo, perché non accetterò mai di piegarmi all'idea che la maternità debba diventare nemica di altre possibilità che hai nella vita, nient'altro di quello che puoi fare nella vita, secondo me ti può regalare le emozioni che ti regala la maternità, ma questo non deve precluderti tutti gli altri traguardi che vuoi portare avanti, questo è quello per cui io lavoro e questo è diciamo anche dimostrato da quello che in questo anno il governo ha portato avanti.